Valentina, tu stai presentando a Roma il tuo libro, di cosa si tratta e perché si chiama Forti Come Noi? Allora, è un'autobiografia che va a scavare un po' più a fondo del personaggio che magari si vede su Instagram e uno che legge Forti Come Noi scopre un po' più su Valentina Persona rispetto alla facciata magari della televisione o dei social. Il titolo è riferito ai problemi di salute che ho dovuto affrontare e che tante persone ogni giorno si ritrovano ad affrontare come ho dovuto fare io se non loro stessi e magari qualche componente familiare. Quindi l'iter comunque di una malattia del genere, di un cancro è pesante e mi andava di condividere anche questa cosa un po' in maniera più approfondita con le persone che mi seguono, sperando che sia di ispirazione e di aiuto. Ecco, come è stato, diciamo una domanda un po' banale, come è stato il rapporto con la malattia, come l'hai affrontata e come sei riuscita a superarla? È stato difficile perché intanto avevo 21 anni, un'età in cui sei grande perché magari vivevo fuori casa ma per alcune cose sei piccolo, sei immaturo e diciamo che ho sempre avuto molta forza, molto coraggio, molta tranquillità in realtà però non si può dire lo stesso delle persone che avevo vicino perché il fatto di avere magari i tuoi fratelli, i tuoi genitori, i tuoi nonni che hanno tanta ansia su una cosa, tu cerchi di non dargli ancora di più un peso da portare sulle spalle ma cerchi di sdrammatizzare quindi dovevo essere più forte io intanto per sconfiggere quello che avevo ma anche per non far pesare la gravità della cosa sui miei parenti quindi ero sempre tutta a mille, pimpante eccetera per non farli stare ancora più male, non farli essere ancora più tristi o scoraggiati e detto questo è stato difficile a livello proprio fisico perché soprattutto operazioni a parte che ovviamente è un intervento grosso ti fanno tutto un taglio qua, ti levano la tiroide, l'infonodi, tutto quanto, è pesante non la guarigione della ferita in sé ma le cure che vengono dopo, la chemioterapia e la radioterapia perché ti debilitano completamente il corpo, il fisico io mi ricordo che dormivo anche 18-20 ore al giorno e avevo dei sbalzi forti di temperatura ho fatto dell'estate al mare con 40 gradi con la felpa, la sciarpa perché stavo male e avevo difficoltà a fare qualsiasi tipo di sforzo fisico, anche salire le scale dal salotto, andare in camera quindi ti lascio immaginare giocare a basket, era veramente un disastro con tutti i problemi di respirazione, tachicardia eccetera però nonostante questo ho deciso di non smettere mai perché anche se magari mi allenavo 20 minuti nella mia testa dicevo sempre dai magari domani mi alleno un minuto in più, faccio un esercizio in più, faccio un qualcosa in più mi dava il metro per fare meglio il giorno dopo, era uno stimolo infatti io questa cosa la dico sempre alle persone che mi seguono, se avete un problema anche grosso di salute cercate di sconvolgere il meno possibile la vostra vita perché il fare le cose normali di tutti i giorni vi dà l'input per combattere, per andare avanti, per affrontare le cose se io mi fossi abbandonata a letti di ospedale o letti in casa sarei un po' implosa in me stessa probabilmente quindi ho cercato di rendere la mia vita uguale a quella che era prima anche se poi nell'effettivo non lo era però a me per esempio allenarmi anche se facevo fatica mi dava quella carica in più per dire dai domani facciamo meglio di oggi